Grazie a tutti. 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 Terzo classificato, gradino più basso del podio, Presta Claudio. Secondo classificato, Licastro Rocco. Aspetta, vince la categoria Polksport Monoposto. Grazie a tutti. Premia il presidente del Consiglio del Consiglio del Consiglio del Comune di Regalise Mangone Fabrizio. Terzo classificato, Claudio Presta. Terzo classificato, Claudio Presta. Grazie a tutti.